ciao a tutti eccomi qui volevo scusarmi perché non sono riuscita a caricare come avete notato un video venerdì scorso ma sono stata un pochettino impegnata e adesso vi faccio vedere il perché ecco qui la colpevole lei è lady a due mesi magari sotto vi scrivo la la sua storia è appena arrivata diciamo nel non nella nostra famiglia e mi sta diciamo occupando un pochettino del del mio tempo come leggete dal titolo questo è un concorso mi piacerebbe come faccio ogni anno fare questa donazione di 30 euro ma vorrei appunto che fosse voi a scegliere l'associazione olente a cui volete appunto destinare questi soldi vi do la possibilità di scrivere un commento a testa qui sotto e magari motivandolo cioè raccontandomi magari la vostra esperienza con questa associazione e il motivo per cui voi volete ci tenete che questi soldi vadano appunto a loro io poi sceglierò il commento comunque la motivazione che mi ha colpito di più e ovviamente farò questa donazione questa piccola donazione io spero che questa iniziativa vi piaccia a me non piace fare giveaway o concorsi dove regalo degli oggetti ma preferisco che questi soldi vengano comunque dati in in beneficenza e che entrambi sia io che che voi nel nostro piccolo poi contribuiamo magari a dare un sorriso a qualcun altro spero che l'iniziativa vi piace ci vediamo prossimo video ciao grazie a tutti grazie a tutti